Chi ha dolore alla spalla conosce sicuramente la famosissima cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori è un gruppo di tendini, quindi le parti finali dei muscoli, che avvolge la testa dell'omero come se fosse una cuffia e che contribuisce al movimento e alla stabilizzazione. È un gruppo di tendini estremamente delicato per posizione anatomica e per scarsa vascolarizzazione che hanno, quindi è facile che vadano un po' nei guai, è facile che si usurino e che si infiammino. Può capitare agli sportivi, soprattutto a quelli che mobilitano carichi, diciamo, sopra il livello dell'orizzonte, ma capita assolutamente anche alle persone comuni senza alcun apparente motivo. Come ce ne accorgiamo, che sintomi abbiamo? Il sintomo principale dei problemi della cuffia dei rotatori è il dolore. Il dolore che spesso, soprattutto nelle fasi acute, è presente la notte e quasi sempre è presente quando il movimento della spalla va oltre i 90 gradi di flessione. E come si curano i problemi della cuffia dei rotatori, come si cercano di migliorare? Le soluzioni naturalmente sono le solite tre, le soluzioni riabilitative, le soluzioni farmacologiche e le soluzioni chirurgiche. Di queste tre, la soluzione riabilitativa è quella su cui concentrarsi di più. La ricerca ha dimostrato che l'esercizio terapeutico è uno degli strumenti più utili per migliorare lo stato dei tendini. Chiaramente ci sono anche i farmaci a supporto, ma hanno le loro controindicazioni. E poi c'è la chirurgia che naturalmente si cerca di tenere per quei casi in cui proprio non se ne può fare a meno, anche perché molto spesso si è visto che i risultati delle riabilitazioni ben fatte sono paragonabili a quelli della chirurgia. Per le problematiche che coinvolgono i tendini, che coinvolgono il movimento, si è spesso portati a non fare determinate cose, a tenere l'arto a riposo. Si è visto che in realtà questo è peggio. Il tendine per guarire, per migliorare, ha bisogno di essere vascolarizzato, quindi ha bisogno anche di essere caricato, ma caricato nel modo giusto e nel modo più controllato possibile. Quindi adesso ti illustrerò tre esercizi che possono aiutare in una buona maggioranza di casi di problematiche della cuffia dei rotatori. Ovviamente varie di caso in caso, ma questi tre di solito costituiscono sempre un grande classico. Il primo riguarda la mobilità di spalla. A meno che una persona non abbia avuto una lussazione, che ha un capitolo completamente diverso, quindi ha una spalla instabile, molto spesso accumuliamo eccessiva rigidità, per i più svariati motivi. Quindi posso andare a stimolare la mobilità della mia spalla semplicemente utilizzando un bastone e andando a lavorare in questo modo. Quanto? Beh, con un bastone abbastanza lungo, io posso trovare l'apertura che mi consente addirittura di superare la linea della testa. Chiudo fin quando non trovo un'apertura che, a livello della testa, sia abbastanza stimolante. Bene, e a quel punto mobilizzo. Tengo un paio di secondi e mollo. Tengo un paio di secondi e mollo. Per una trentina di volte, magari facendo una pausa ogni dieci. Molto utile poi coinvolgere anche attivamente le strutture tendine. Quindi prendo un peso che può andare da 1 a 3-4 kg e vado non in questa direzione, non in questa direzione, ma a metà tra le due, con il pollice verso l'alto. Ok? E cerco di fare un 3 serie da una ventina di ripetizioni. Se a 20 ripetizioni ci arrivo in modo veramente, veramente facile, posso prendere un peso superiore a quello che hai deciso di utilizzare. Quindi normalmente si utilizza dagli 1 ai 3 kg, nella maggior parte dei casi. E poi le classicissime extra rotazioni. Quindi con braccio ben aderente al fianco, ruoto all'esterno, chiaramente, perché possa avere senso l'esercizio, lo devo fare sdraiato sul fianco. E vale lo stesso discorso, un 3 serie da una ventina di ripetizioni.